5, 4, 3, 2, 1, vai! 10, sinistra 2 e subito gira per sinistra 1, vai vai vai, destra 4 lunga 50 e in destra 2 secca 50, sinistra 6 lunga 50, per destra 5 lunga chiude addosso. 10, sinistra 2 lunga, chiude, in accenno destro e destra 2 3 volte. 10, per sinistra 2 lunga lunga, vai, sinistra 1, destra 1 e molta attenzione, sinistra 2 lunga. Array in sinistra 2, subito destra 2 scende, 100. Fine staccionata, sinistra 2, Array in meno meno, in destra 1 scende, 20. sinistra 2, 10 e attenzione, sinistra 1 gira, destra 1, sinistra 1, tornante destro e in sinistra 2. destra 1, sinistra 2, meno lunga, accenno sinistro, in attenzione, destra 1, 50. accenno destro, in accenno sinistro, in destra 2, sinistra 2, in destra 3, meno meno, in sinistra 1. 30, destra 1, lunga e gira, 10, sinistra 1, accenno destro, in accenno sinistro, in accenno destro, 30. e destra 3, meno, chiude lunga, 20. sinistra 2, meno meno, e sinistra 1, subito destra 2, meno meno, subito sinistra 2, meno, e destra 2, 10. per destra 1, attenzione, subito destra 2, meno, e subito sinistra 1, accenno sinistro, accenno destro, e fine, eh! basta, basta!